Adesso ci hai preso gusto a fare gol sotto la curva? No, che gusto. Spero di farne il più possibile. Andrea ha confermato titolare per continuare a segnare e continuare a vincere? Non lo so, vediamo. Il mister fa la formazione dell'ultimo giorno, sempre. Sempre di poche parole? Non so che dire. Però hai appena fatto 18 anni, cominci a diventare grande, però cominci a diventare indispensabile per questo Pescara? No, il mister fa sempre le scelte. Poi chi va in campo dà sempre il massimo, nessuno è indispensabile. Hai fatto un gol giocando da esterno a destra, hai fatto l'ultimo gol partendo da esterno a sinistra, che forse è il tuo ruolo più congeniale. Dove preferisci tu? Io potrei giocare pure in porta, l'importante è che il mister mi metta in campo. Hai imparato a fare l'intervista? No. Una battuta e chiudiamo, torno serio, su Andrea. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita che vogliamo sicuramente vincere di nuovo, come vincere tutte le partite, perché ora dobbiamo macinare punti, dobbiamo fare sempre di più per riconquistare, per essere come eravamo prima, all'inizio del campionato.